La Salernitana serve il poker contro la Sampdoria nella terza giornata di campionato, una prova da incorniciare quella della formazione allenata da Nicola che ha dominato il lungo e largo, non ha praticamente mai sofferto contro la squadra blucerchiata che ha avuto un solo squillo all'inizio su una spizzata di Caputo per De Paoli che è terminata alta sulla traversa. Una squadra granata che è parsa solida in ogni reparto che inizia a trovare finalmente un po' di sintonia, di automatismi che ovviamente nelle prime giornate non potevano esserci. Ancora ovviamente non siamo ancora al top perché la Salernitana non è ancora al top perché siamo all'inizio solo della stagione, però qualcosa di meglio si vede. Abbiamo sempre detto che questo gruppo per la maggior parte degli elementi è arrivato in corso d'opera, quindi molti sono arrivati addirittura alla vigilia del campionato o dopo la prima giornata. Gioco forza è chiaro che le cose non possono che migliorare e se pur non essendo al top si vince 4-0 onestamente viene da pensare che il futuro per la squadra granata possa essere roseo. Però giustamente come dice Ricola è anche giusto mantenere i piedi per terra perché poi ogni partita fa storia a sé. La Samp veniva anche da un buon pari con la Juve quindi che è una squadra di quelle candidate per la vittoria del titolo. Gioco forza non è che incontrava la Salernitana, la squadra granata non dici che era in una situazione, almeno in questa fase iniziale di stagione, in difficoltà. Anzi comunque era un risultato che aveva dato morale alla squadra doriana e quindi si pensava anzi che sarebbe stata una partita abbastanza complicata sotto questo aspetto. Invece i granata hanno reso tutto facile perché hanno ritrovato un sontuoso, un battagliere, un impetuoso, imprendibile, la Sana Koulibaly. Hanno finalmente, Viglien ha giocato con maggiore continuità, ha mostrato il suo estro, le sue qualità, la braura nell'illuminare il gioco, nel creare da nulla situazioni interessanti. Viglien ha preso maggiore confidenza con, scusate il gioco di parole, ma è stato inevitabile. Con i compagni di reparto ha dato in là l'azione del primo gol. Di A ha fatto gol, ha appoggiato la palla dentro su Assis di Bonazzoli, ne ha fatti due di Assis successivamente. Insomma, botenne, entrata e assegnato, giornata praticamente perfetta per i Granata. E da tal riguardo, io mi pongo un quesito a questo punto. La settimana si è disbattuto molto negli ultimi giorni sulla questione di un attacco da rinforzare con un giocatore di esperienza, con un giocatore in grado di riempire l'area di rigore, con un giocatore che faccia compiere il definitivo salto di qualità. Ma questi tre ragazzi, dico tre ragazzi insomma, comunque alla fine, tali sono, Botein, Botein, Di A, Bonazzoli, hanno dimostrato che di avere qualità, doti, tecnica per fare grandissime cose, per fare anche un importante bottino di gol. Giocoforza, prendere un giocatore importante potrebbe significare ridimensionare lo spazio di uno dei tre. Un conto invece è prendere un giocatore che magari è pronto a mettersi a disposizione, magari un under, un ragazzo di talento importante, per carità, che se la giochi sia pronto a sfruttare la sua occasione. Un altro discorso magari è andare su un giocatore di un certo rilievo, si è parlato di attaccante del Cessi Battasvili, si è parlato di Pia Piotek, si è parlato di altri giocatori che hanno comunque un passato di un certo rilievo. Ovviamente non credo che vengano poi a fare le alternative ai titolari o comunque, insomma, anche il peso del nome può portare all'allenatore a prendere determinate scelte, almeno inizialmente. Però ci sono questi tre ragazzi su cui si è puntato forte, due acquistati a titolo definitivo, un altro insomma c'è la possibilità di riscattare. Io valuterei bene il giocatore da prendere, che deve essere funzionale, al progetto deve entrare in punta di piedi e giocarsela con questi tre calciatori che hanno dimostrato, che stanno dimostrando e che dimostreranno ancora di più, perché, ripeto, siamo ancora in una fase iniziale della stagione e tutto fa credere che questi elementi abbiano delle capacità per poter lasciare una traccia importante nella storia della Salernitana. Sì, magari un giocatore che abbia prestanza fisica da buttare dentro o in situazioni particolari della partita. Però, ripeto, io credo che non bisogna far saltare determinati equilibri, anzi, in questo momento bisogna consolidarli, visto che Nicola dopo una travagliata, una difficoltosa fase di preparazione, perché non ha avuto a disposizione fin da subito la maggior parte dell'organico al completo. Adesso, finalmente, sta iniziando a lavorare sulla squadra, i risultati si vedono, quindi bisogna stare attenti anche nel punterlarla, con gli elementi che entrano in punta di piedi e se la giocano con chi sta dimostrando di meritare una maglia da titolare. e Bottem ha riscattato alla grande le due prestazioni in chiaro scuro delle prime due giornate, è entrato acceso, ha dimostrato di poter meritare una maglia da titolare, però gli altri due non sono stati da meno, quindi piacevoli grattacapi per Nicola. Penso che tutti gli allenatori vogliono avere questi grattacapi. In mettere un giocatore di rilievo di nome, insomma, potrebbe anche far saltare il banco e la tentazione di sfruttare il nome di peso, il nome importante, poi potrebbe portare uno di questi elementi, diciamo, a recitare un ruolo secondario. Non ci pare il caso, visto, meno una mia valutazione, visto che si tratta anche di investimenti onerosi e importanti che ha fatto la società. Quindi una riflessione la farei su questo. Poi, per quanto concerne la difesa, sicuramente un difensore eclettico che sappia giocare anche sulla fascia mancina è importante, anche perché Mazzocchi è un peccato che non è lo stesso Mazzocchi di quando gioca a destra. Ha rischiato anche un'espulsione, quindi, voglio dire, è meno efficace. Sarebbe importante, visto che Brada ricce pare che non sia ancora al meglio, tant'è che non è entrato neanche a partiti in corso. Lo stesso Zambia sta faticando, però, voglio dire, recuperando quantomeno un giocatore che può giocare, può adattarsi a giocare sulla fascia mancina, si hanno maggiori alternative. E quindi, voglio dire, le cose dovrebbero anche andare meglio sotto questo aspetto per quanto concerne gli equilibri della squadra. Per il resto c'è poco da aggiungere, voglio dire, le note sono praticamente tutte positive, difficile trovare. Sì, la perfezione, come ha detto Nicola, non esiste. In questa partita, praticamente, è stata sfiorata, perché davvero pochissime le cose, dobbiamo andare nei dettagli, magari il primo tempo il Giomber alcune volte non è stato attentissimo, ha rischiato di far su Caputo, si è fatto anticipare da Caputo in quell'occasione che poteva dare alla Sampdoria il momentaneo vantaggio, ha rischiato in un'altra circostanza per un frettoloso rinvio sul 2-0, si è fatto sorprendere. Il primo tempo, però, ripeto, in una partita può capitare che un elemento della squadra sia meno brillante rispetto ad altri, tra l'altro poi Giomber ha chiuso in crescendo facendo un ottimo secondo tempo, quindi, voglio dire, c'è veramente poco da dire. Le note negative, pardon, sono proprio queste, le alternative al momento sulle fasce tardano a ritrovare un minimo di condizioni importante, quindi mi riferisco a Sampdoria e Bradaric per poter dare un contributo che faccia stare tranquillo l'allenatore. Questo, voglio dire, se vogliamo trovare il pelone e l'uovo. Per il resto, ripeto, la riflessione importante va fatta sul tipo di attaccante, non sul tipo perché è chiaro che se vuole prendere un giocatore bravo è il gioco aereo, ma più che altro se si vuole puntare su un nome forte e quindi un po' scompaginare gli equilibri, oppure magari su un under di grande avvenire che però se la giochi tranquillamente sia pronto, diciamo, a sfruttare le sue occasioni se chi sta momentaneamente davanti non dovesse poi dimostrare, non dovesse confermarsi, confermare quanto di buono sta facendo vedere finora. Questo è quanto ci risentiamo per i prossimi impegni alla Sarnitana che avrà un turno infrasettimanale, ricordiamo, gioca giovedì 1 settembre in serata con il Bologna alle 20.45 in trasferta un bel banco di prova per la squadra di Nicola che è chiamato anche, che ha chiamato a confermarsi anche lontano dalle mure amiche e magari all'allungare questa striscia positiva che dà coraggio e dà fiducia per un campionato che a differenza di quello della passata stagione magari sarà, si spera, meno complicato, meno sofferto. Questo è quanto restiamo aggiornati, ci aggiorniamo per le eventuali news sulla Sarnitana in settimana, durante la settimana e l'occasione del turno infrasettimanale. Per tutte le altre notizie basta accedere a www.notiziaudaci.it cronaca, gossip, attualità, spettacoli, di tutto e di più. seguiteci su www.notiziaudaci.it sui canali social quindi YouTube, Facebook ed Instagram sempre Notiziaudaci per quel che possiamo esserlo e proviamo sempre ad essere nella nostra umiltà, nel nostro modo di approcciare umilmente a questo mestiere comunque complicato e ancora più complicato adesso che abbiamo a che fare con il mondo del web, con gli algoritmi che diciamo ci scompaginano quando ci sono delle variazioni e ovviamente dobbiamo essere sempre sul pezzo per cercare di carpire al meglio di carpire al meglio tutte le novità e di essere pronti a a sfruttarle per non restare spiazzati o restare addirittura indietro. Questo è quanto ci risentiamo prossimamente per le news sulla Sernitana seguiteci su www.notiziaudaci.it Sernitana